Dopo il blitz nella sede dell'Amtab con la sua auto, il sindaco De Caro vuole chiarimenti sulle assenze da record registrate a cavallo di capodanno tra gli autisti. Nella nota chiede il motivo di 70 malattie contemporanee e 24 assenze ingiustificate, ma anche sulle regole che disciplinano all'interno dell'azienda permessi ferie e accompagnamenti. Non è una battaglia contro i lavoratori onesti, ma vogliamo scovare i furbetti, spiega De Caro in un comunicato. Il sindaco non rilascia interviste, ma riferisce dell'incontro avuto con i sindacati per riflettere sul futuro delle municipalizzate. Trasporti, rifiuti, gas potrebbero finire in un unico consorzio di gestione e c'è l'apertura a privatizzare l'Amtab, ingestibile alla luce dello scandalo assenteismo. Per l'opposizione però il primo cittadino si contraddice, visto che il suo programma non prevedeva l'ingresso dei privati nei servizi pubblici. Ci sono dovuti gli assenteisti per fargli ammettere che l'Amtab va privatizzato. Forza Italia l'ha gridato, urlato in Consiglio Comunale. Il sindaco ha inteso spendere 10 milioni di euro di soldi pubblici per un ente che si comporta in questa maniera. Non capisco come possa rimanere in serie il Consiglio di Amministrazione, come non si possa parlare di commissariamento. Se un sindaco responsabile, tra l'altro, della mobilità deve intervenire, intervenga con decisioni. I cittadini vogliono provvedimenti che puniscono coloro che hanno sbagliato. Se qualcuno ha sbagliato non va premiato, va punito.